Lunedì 10 giugno 2019. È il 161esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli. La chiesa ricorda Santa Diana. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Diana. Il nome ha origine latina e significa luminosa, splendente. Il numero portafortuna è il 3. Il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 10 giugno del 2003, il lancio della navicella Spirit ad opera della NASA segna l'inizio del Mars Exploration Rover, la più grande missione di esplorazione su Marte. Dei due rover gemelli, Spirit e Opportunity, quest'ultimo è rimasto in funzione fino al 2018. Il 13 febbraio 2019 la NASA, durante una diretta live streaming, ha affermato che la missione era conclusa, poiché i tentativi di mettersi in contatto con il rover si sono rivelati fallimentari, dopo che dal 10 giugno 2018, a seguito di una tempesta di sabbia, Opportunity non aveva dato più segni di attività a causa della sabbia depositata sui pannelli solari. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati oggi ricordiamo lo stilista Elio Fiorucci, nato a Milano il 10 giugno 1935. Il suo marchio, con i famosi due angioletti, rivisitazione di un'immagine vittoriana dell'architetto Italo Lupi, si impone a livello mondiale negli anni 70 e rimane da allora simbolo di una moda indissolubilmente legata all'arte pop. Le frasi del cinema La mente ha dimora in se stessa, ed essa stessa può fare un paradiso dell'inferno. Un inferno del paradiso Dal film Urge Proverbio del giorno Nutri un corvo e ti caverà un occhio Proverbio russo